Due conferme e tre new entry. Ad una settimana dal risultato elettorale, con la vittoria di Valentina Ghiu al primo turno, col 52,21% dei voti, il sindaco ha presentato ufficialmente la nuova squadra, rinnovata per il 60% rispetto a cinque anni fa. Iniziamo dalle conferme. Lucia Pinasco oggi è assente in conferenza stampa, che mantiene i servizi sociali, le politiche giovanili per la famiglia, lavoro, pari opportunità, istruzione e infanzia. E Pietro Gianelli, che sarà ancora vice sindaco, con delega al bilancio. Un dato positivo, però, in questo periodo e che mi auspico possa avvenire anche per il futuro, è quello di poter continuare nella strada di non aumentare la pressione fiscale, di continuare a ridurre nel limite del possibile la spesa corrente e anche a ridurre l'indebitamento, come diciamo in questi cinque anni abbiamo portato avanti. Tra le novità, Mauro Battilana, assessore ad Ambiente e Difesa del Suolo, Agricoltura, Rifiuti, Sport e Protezione Civile e Sicurezza. Maria Elisa Bixio, che prende commercio, cultura, sviluppo economico. Entrambi sono stati consiglieri nella scorsa amministrazione. A loro si aggiunge l'assessore esterno Paolo Valentino, chiamato a seguire lavori pubblici, decoro urbano, depurazione delle acque e demanio. Tanto lavoro che è stato fatto, ora c'è anche da mantenerlo e garantire un certo tipo di decoro urbano. E questo sarà uno degli elementi più importanti sulle piccole cose. Poi abbiamo la pratica molto importante del depuratore, che è una pratica che va approfondita in maniera più che opportuna, perché è un'opera che da anni si attende sestri, ma bisogna farla bene e possibilmente garantendoci che non ci siano problemi. Sicuramente quello che abbiamo già proposto in campagna elettorale, le no tax area e i patti d'aria, poi continuare con la conferenza del turismo a collaborare poi con le associazioni di categoria per cercare di dare una svolta al commercio a Sestri Levante. La polizia dei sentieri, che può sembrare magari un aspetto marginale, ma che a mio modo di vedere invece ha ottenuto un grosso risultato, che è stato quello di coinvolgere molte energie presenti in città, associative, nonne, e quindi su questo vorrei continuare sempre come prima.